Notizie di Prato Tg, a tutti buonasera. La manifestazione di Forza Nuova in programma sabato a Prato. Il procuratore Nicolosi ha aperto un'inchiesta dove si ipotizza il reato di apologia del fascismo. Sentite. Non è esclusa la configurazione del reato di apologia del fascismo e la conferma potrebbe arrivare dal dossier a cui la Digos sta lavorando su richiesta del procuratore Giuseppe Nicolosi. Il corteo di Forza Nuova che sabato, giorno del centenario della Fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento, sfilerà da Piazza della Stazione a Piazza del Mercato Nuovo per protestare contro le politiche sull'immigrazione, è diventato oggetto di un'inchiesta. Il procuratore ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha chiesto alla polizia di raccogliere tutto quello che da settimane sta circolando dentro e fuori la rete per verificare se il reato di apologia del fascismo, al momento configurabile solo in modo astratto, possa diventare una vera e propria contestazione. Perché un conto è la comunicazione al questore, spiega Giuseppe Nicolosi, e un conto è come l'iniziativa viene propagandata. Una verifica insomma sul pieno rispetto della legge scelba che dal 1952 vieta l'esaltazione e la promozione del fascismo. La manifestazione contro la quale si sono alzate le voci non solo della politica, ma anche della Chiesa, del Sindacato, dei movimenti, dell'associazionismo, ha ricevuto definitivamente il via libera ieri, quando il prefetto e il questore hanno comunicato la loro decisione al Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Appelli, richieste di ripensamento e le circa 20.000 adesioni alla petizione online per bloccare l'iniziativa sono caduti nel vuoto. Così come sono cadute nel vuoto le ripetute segnalazioni sul logo, quel numero 100, che è un chiaro richiamo all'anniversario del fascismo, che compare sul volantino diffuso da Forza Nuova per pubblicizzare il corteo. L'ultimo invito a fare marcia indietro è di oggi. L'AMPI nazionale, tramite il proprio avvocato, ha inviato una diffida al prefetto affinché impedisca la manifestazione giudicata illecita e illegittima e annuncia in ritardo, visto che la procura si è già mossa, un esposto all'autorità giudiziaria. Accanto all'inchiesta che potrebbe portare concretamente a ipotizzare il reato di apologia del fascismo, ce n'è un'altra. La procura ha aperto un fascicolo contro i gnoti per l'imbrattamento con svastiche e simboli fascisti comparsi martedì scorso sulle facciate delle sedi dell'AMPI in Piazza San Marco e del PD in Via Carraia. Il clima è rovente. Sabato la città sarà un concentrato di forze dell'ordine con cordoni di uomini e mezzi per controllare e contenere il corteo di Forza Nuova e fare lo stesso con il contropresidio organizzato da sindacati e associazioni e patrocinato dal comune. Nascondeva la droga da spacciare all'interno di alcune auto che teneva parcheggiate nella zona di Careggi a Firenze, ma è stato pedinato e scoperto dalla polizia. A finire in manette ieri un 42enne del Marocco che abita a Prato, già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo. In due delle vetture nella sua disponibilità sono stati trovati complessivamente tre chili di hashish. Nella sua abitazione la polizia ha sequestrato 12 mila euro in contanti, denaro considerato frutto dell'attività a dispaccio. Le auto all'interno delle quali è stata trovata la droga sarebbero intestate a due cittadini italiani sui quali sono in corso accertamenti. Amminacciato di morte l'ex compagna afferrandola per il collo e tentando di sottrarle il cellulare con il quale la donna è comunque riuscita a chiamare il 112, non smettendo poi di inveire contro di lei anche dopo l'arrivo dei militari, tentando ancora di lanciarle contro un tavolo prima di essere definitivamente bloccato. Per questo un 36enne residente a Prato, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri ad Agliana e denunciato per atti persecutori, maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali, danneggiamento, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale. La sua ex compagna, 38 anni, portata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 10 giorni per lividi e contusioni sul collo. Parliamo di sanità, si potenzia l'oncologia del Santo Stefano e sono pronti 6 milioni di investimenti, Eleonora Barbieri. La radiofarmacia PET approda nel reparto di medicina nucleare dell'ospedale di Prato, al servizio di tutta l'Astoscana Centro, che fino ad oggi ne era sprovvista, costringendo i pazienti a rivolgersi altrove, anche fuori dai confini toscani. La nuova tecnica per diagnosticare, studiare e curare alcuni tipi di tumori, come quella alla prostata, è di fatto un potenziamento dell'oncologia pratese, che così potrà affiancare al progetto Donna, in cui è altamente specializzata per la cura del cancro al seno, anche il progetto Uomo. La novità è stata annunciata dal direttore generale dell'Astoscana Centro, Paolo Morello Marchese, nel corso di un'intervista esclusiva con Notizie di Prato, in cui tra nuove apparecchiature e adeguamento degli spazi ha elencato quasi 6 milioni di euro di investimento nel giro di pochi mesi. Sul polo oncologico di Prato noi vogliamo investire in maniera veramente significativa e anche come investimento come alta specializzazione, per cui abbiamo concordato con l'assessorato e con i nostri colleghi naturalmente qui di Prato di potenziare una parte di attività terapeutica che avviene tramite farmaci con radioisotopi. L'arrivo della radiofarmacia PET comporta un investimento di 600 mila euro, perché gli spazi occupati da medicina nucleare al piano terra dovranno essere ampliati sfruttando moduli esterni liberi dentro il perimetro dell'ospedale. Abbinata a questa novità e come ulteriore rinforzo dell'oncologia pratese, sarà acquistata anche la seconda PET-TAC che consente di verificare se e quante metastasi sono presenti in un paziente oncologico. Anche in questo caso il macchinario è unico per tutta l'Asl e costa ben 3 milioni di euro. Altro investimento a breve sul Santo Stefano è l'acquisto della terza TAC per radiologia, che sarà specializzata nello studio del cuore. Quarta e ultima novità per l'ospedale riguarda l'ampliamento degli spazi al piano terra per allargare oculistica e attivare altri 12 ambulatori multidisciplinari. Anche qui c'è un investimento economico importante, la ristrutturazione degli ambulatori è più di 1 milione e 300 mila euro più la terza TAC che sono 900 mila euro. L'impegno è forte anche sul fronte dell'organico che è l'anello debole del Santo Stefano. Quanto al turnover 2019? Noi procediamo alla sostituzione totale. Per quanto riguarda i medici anche ci sono rinforzi in vari ambiti, per cui abbiamo non meno di una cinquantina di unità che verranno assunte. Morello garantisce pulizia anche delle piante organiche d'assistenza, come segnalato dal consigliere regionale Nicola Ciolini. Sono oltre 70 gli infermieri, le osse e le ostetriche che sulla carta sono ancora in corsia, ma che in realtà si occupano di compiti amministrativi per vari motivi. Significa falsare gli indicatori ufficiali e percepire indennità di corsia che in realtà non spettano. Entro quattro mesi sarà fatta chiarezza. La gara del trasporto pubblico locale. La Corte di Giustizia Europea dice che è legittima l'assegnazione ad Autolinee Toscane. Mobit, l'altra accordata in corsa, ne fa parte anche la Pratese Cap, però non molla. Autolinee Toscane, controllata dalla francese Rattepè, ha le carte in regola per aggiudicarsi anche in via definitiva la gestione del trasporto pubblico locale in Toscana. Non è dunque un ostacolo il fatto che Rattepè sia affidatario diretto dello stesso servizio in Francia. Lo dice la Corte di Giustizia Europea, chiamata a esprimere un parere dal Consiglio di Stato che ora, salvo colpi di scena che appaiono remoti, dovrà ratificare il pronunciamento, passando però dalla valutazione delle altre eccezioni sollevate da Mobit, l'accordata delle aziende di trasporto toscane a cui appartiene anche la Pratese Cap, che ha visto svanire la possibilità di mantenere la gestione del servizio. Per Cap significa dire addio al territorio dopo più di 70 anni. Una partita da 4 miliardi di euro per 11 anni di gestione. Una partita che la Regione Toscana intendeva chiudere in breve tempo, già tre anni e mezzo fa, ma che poi, come era prevedibile, si è impantanata nelle sabbie mobili delle carte bollate tra TAR, Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Europea e di nuovo, ora, il Consiglio di Stato. Un importante passo nella giusta direzione, il commento di Bruno Lombardi, presidente di Autolinea e Toscane. Abbiamo tutti i requisiti per partecipare alla gara regionale. Adesso aspettiamo che si dia seguito agli atti previsti, concordati e sottoscritti da tutte le parti interessate. Stabilito che la concessione del servizio alla società del Mugello non è viziata dalla presenza di RATP, Lombardi ricorda che il pronunciamento è in linea con quanto hanno sempre sostenuto la Regione Toscana e il TAR. Questo ha dimostrazione, ancora il suo commento, della serietà e della correttezza con cui è stata gestita la gara. Il nostro obiettivo è essere pronti a fornire un servizio di trasporto di qualità come voluto dalla Regione e come atteso da tutti i pendolari. Mobit non si arrende. Sull'applicazione delle regole europee, scrive in un comunicato, valgono le scelte delle autorità italiane. Lungi dall'essere allo Stato decisa per effetto della sentenza della Corte di Giustizia, la vicenda è pienamente convertibile e questo impone il pronunciamento del giudice amministrativo prima di procedere a qualunque considerazione definitiva che genererebbe soltanto ulteriori contenziosi, anche risarcitori. Nessun rischio di infiltrazioni mafiose nella Ristorart Toscana, l'azienda di produzione pasti con sede legale a Prato e direzione a Dagliana. Lo ha stabilito oggi il TAR della Toscana che ha annullato l'interdittiva antimafia che era stata inflitta alla società dalla Prefettura lo scorso 25 luglio. Nello stesso provvedimento il TAR ha condannato anche la Prefettura al pagamento delle spese di giudizio valutate in 3.000 euro. Il TAR, già pochi giorni dopo l'interdittiva, aveva concesso alla Ristorart la sospensiva permettendo così di proseguire il lavoro. Oggi la fine della vicenda. La vicenda era relativa ad un subappalto che Ristorart Toscana assegnò a una ditta calabrese coinvolta in una inchiesta della DDA di Catanzaro su infiltrazioni dell'andrangheta nell'economia legale. Si tratta di un incarico per pasti alla mensa di un centro di accoglienza per migranti a Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone. La Prefettura aveva emesso in seguito a queste notizie un provvedimento di natura amministrativa interdittivo contro Ristorart Toscana. Abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere nelle istituzioni, si legge in una nota di Ristorart, ma ospichiamo come cittadini di uno Stato di diritto che quanto accaduto a noi non si ripeta ad altri, colpevoli solo di essere nati e di aver fatto impresa anche in Calabria. L'alfiere della Repubblica, Jasmine, ha ricevuto il gigliato d'argento, Alessandra Grati. Il 4 marzo scorso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Jasmine Maddal, alfiere della Repubblica. Questa mattina nel Salone Consigliare il Sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ha consegnato alla giovane studentessa del Gramsci Keynes il gigliato d'argento. Una nostra concittadina, a cui anche noi abbiamo intenzione di dire brava, diventare alfiere di Mattarella significa, secondo me, del Presidente della Repubblica in realtà, significa aver fatto un percorso che si è fatto notare a livello nazionale, di abnegazione, di attenzione, di qualità, e questo secondo me è un valore per tutti quanti, è un valore di impegno soprattutto, di passione per la propria comunità. Jasmine da anni soffre di colite cronica, una malattia dolorosa che però non le ha levato il sorriso e la forza per allenarsi ogni giorno e diventare campionessa di Judo, ma anche di far parte del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze del Maier. Quando mi è stato detto che sarei diventata un alfiere, non sapevo bene cosa voleva dire. Dopo diverse ricerche ho capito che era un riconoscimento molto importante e diciamo che sono rimasta anche sorpresa perché per me quello che facevo erano azioni normali, c'era la mia normalità. Non solo impegno sociale, ma anche un impegno nello sport. Il Judo per me è la mia più grande passione, è stato una specie di salvagente perché mi ha aiutato tanto con la mia malattia, mi ha fatta crescere e mi ha formato come persona. In Salone Consigliare, oltre alla famiglia di Jasmine e alla sua maestra degli elementari, c'erano anche i compagni di scuola e i maestri di Judo. Questa è la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre, arrivederci.